buongiorno buongiorno grazie a il barba e grazie a gilotz ma gilotz l'ho ringraziato otto ore fa non è vero otto ore fa dormivo quindi grazie gilotz e grazie anche a radek per i suoi quattro mesi e i siri concentrazione ecco sono un po più colorito così dai un po meglio oggi ci sarà il bad day lo so questo ho fatto proprio quando partiva rasputin perché devo fare un pre live nuovo e che ultimamente sono un po preso e non sono riuscito a farlo non ho ancora montato giallo perché dovevo uscire ieri sono un attimino preso con le bombe ultimamente ad esempio per chi non lo sapesse io ho una malattia si chiama la sindrome di gilbert e quindi se io mangio troppe schifezze troppi grassi o troppo bevo troppo alcol il fegato mi va un attimo a puttana e mi fa stare male bene questa cosa succede anche se digiuno e indovinate un po ho passato un giorno di digiuno bevendo solo acqua e secondo giorno praticamente digiunato uguale perché tutta ieri ho mangiato una banana un toast un po di tacchino e del purè grazie a rizzo francesco sto sfarfallando che vuol dire che sto sfarfallando non lo so da me vedo bene io vedo ok guardiamo su adesso guardo su twitch ma io mi vedo bene da stream labs eh no su youtube è terribile cioè su twitch è terribile no ok sembra a posto adesso possibile si è risolto che questione boh avvisami ancora gabriel nel caso ho perso 24 frame eh però non lo so io non ho visto altro ho detto gabriel ho detto gabriel ho detto gabriel ok deve rispondermi gabriel quando chiedo a gabriel va bene salem show eh va bene sailor ho detto gabriel grazie si 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 gabriel sono un mago no vabbè a sto punto sarà stata la cam non non twitch non mi vedo fluidissimo però eh eh vedo vedo qualche fastidio di occhi però magari sono io io sto lavorando a non urlarmi le orecchie chiedo scusa stecaus chiedo scusa spero si sia capito comunque e stavo dicendo visto che sto di merda avrei bisogno di mangiare qualcosa ho bisogno di mangiare qualcosa per stare meno di merda non ho niente in casa non ho niente non ho niente ho controllato non c'è niente c'è il pane americano però cazzo dopo eh ti senti bullizzato perché sei un deficiente va bene potevi fare meno di rispondere ecco comunque non ho fette biscottate ho il pane americano ma il pane americano poi dopo brusolito vede tutto muccico viene fa caccare eh non ho niente in casa vabbè non ho niente da far colazione perché probabilmente nessuno ha comprato nulla e io non non faccio colazione abitualmente ogni tanto mangio qualcosina ma non faccio colazione quindi non è non è una cosa gravissima oh mio dio non c'ho niente a casa da mangiare stranissimo mi hanno abbandonato no semplicemente non ho niente da mangiare a casa perché di solito non faccio colazione non c'è nessuna casa perché mio papà e mia sorella sono a Trieste con Sif perché mio papà è lì per lavoro e portano Sif a è una cosa curiosa sto notando va bene e portano Sif all'allevamento a farlo vedere agli allevatori mia mamma è al lavoro quindi io sono a casa da solo sono a casa da solo sto male perché dovrei mangiare qualcosa ma sto veramente male non è che sto scherzando mi stanno venendo i conati in questo momento e li devo trattenere perché perché appunto sennò vomito no non ho robe secche davo non volevo roba chissà che potrei avere mangiare il purè ma mi pare un po' esagerato mangiare il purè alle 9.55 del mattino c'ho delle cose non da colazione insomma e quindi la mia domanda è perché Just Eat non porta a casa delle colazioni cioè non è che io non ho interesse nel mangiare che queste brioche di piene no mi basterebbe veramente delle fette biscottate per una piadina qualcosa di non c'è non c'è grazie a me tu smangi bene e mangi giusto eh stai appunto ci proviamo mi piacerebbe sarebbe sarebbe un buon servizio secondo me sarebbe un buon servizio ehm offrire la colazione bel pancake no no ma molto ragazzi veramente non mi serve così tanto mi basterebbe di tarallini ecco va benissimo va benissimo perché iniziano a lavorare le 18 è vero iniziano tutti a lavorare le 18 ma la mia domanda è perché esistono tantissimi bar soprattutto qui nelle vicinanze metà sono cinesi questa è un'altra questione perché i bar non fanno magari un servizio di colazione a casa un po' di riso in bianco ma per colazione da buone e mi sono sospetti le cuffie mi sono sentito sordo per un attimo la spesa online la puoi fare solo a Milano Giunzi io non la posso fare però comunque non me la portano adesso cioè il mio punto è se io faccio comunque tutte quelle spese online quelle cose lì che c'è cos'è spesa 24 mi pare lo faccia quel servizio da me Fudora Fudora ce l'ha da buona adesso guarda Lorenzo grazie mille per Cheers così per dar fastidio 199 stronzo ma il bicchiere è vuoto guarda lì che storie allora fammi vedere Fudora ma mi sa che Fudora da me non non porta perché comunque far la colazione è un ottimo servizio un sacco di persone è supermercato 24 esatto Jules prove comunque un servizio che ti dice ti porto la colazione tu la mattina cioè la sera prima ordini la colazione per il giorno dopo e cazzo e niente non c'è Milano Torino Firenze Roma Bologna e allora va in culo Fudora di merda niente Sir Carota grazie mille entri eh sarebbe non poco figo ma che tanto ma che cazzo no sarebbe ottima come cosa anche Sir Drake grazie mille e tu ti ordini la colazione sai cioè allora nel mio lavoro ovviamente io sono molto libero rispetto ad altre persone quindi in realtà posso fare veramente il cazzo che mi pare ogni tanto mi capita di svilermi un po' più tardi appunto mi capita di stare male come in questo caso però la possibilità appunto di ordinarmi magari qualcosa per colazione non sarebbe niente male esattamente come non sarebbe male sapete cosa? poter ordinare un brodino anche questa qui è una stronzata perché uno dice vabbè un brodino te lo fai certo certo il brodino te lo fai ognuno se lo fa il brodino ci vuole niente basta il dado addirittura per i più pigri c'è anche il brodo pronto quello che basta scaldare se tu lo compri e te lo basta basta che te lo scaldi però se uno sta male ad esempio come stavo io mercoledì se non avessi avuto la mia famiglia sarei morto probabilmente cioè non sarei morto perché ero da solo non avevo nulla ok non però un brodo non te lo puoi ordinare non puoi va bene e di nuovo rizzo bastano per una sana robusta colazione sempre 251 va bene non lo so se basta non ho idea grazie comunque quindi perché io non mi posso ordinare un brodino quando invece il ristorante giapponese mi porta ramen per carità il ramen è il ramen la zuppa di miso è la zuppa di miso però non li prenderei al posto di un brodino ecco poi quando ho freddo quando ho freddo sì quando ho freddo sì mi ordino comunque il ramen mi prendo buono bere il ramen d'inverno e tutto quanto però però cazzo perché non posso prendere un brodino di pollo base ordine 15 euro di spesa da cinese poi zuppa di quelle di pollo e basta e beh il ristorante italiano che ti fa il brodino con le stelline eh va bene lo accetto il 113 chiamavo con i formaggini della minestrina ma infatti sono tutte queste cose che ci mancano ci mancano un po' cioè se uno sta male è un po' un casino almeno mancano a me poi non so come sia magari nelle grandi città come Milano Roma Firenze questi stronzi che c'hanno Fudora grazie Dam 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 arrivo eh scusa c'ho un attimo siamo a 4 le auguro di tornare presto in forma ma guarda in questo momento non ho febbre da quasi 24 stronzo la volevo io non sto a male in questo cioè allora non ho più febbre la faccio ancora a liquidina però la liquidina e i conati in questo momento non dipendono più ormai dall'intossicazione che ormai è passata perché non ho più febbre non ho più neanche il mal di testa ma è dovuto al fatto che appunto mercoledì non ho mangiato nulla e ieri ho mangiato pochissimo quindi mi devo un attimo rimettere e riprendere finché non mangio finché non mangio in maniera regolare e giusta e direi anche abbondante oggi sto così non sto male sto momentaneamente poco bene deve bere tanto è berda se bevo giga mamma mia se bevo bevo veramente tanto per quello che devo smettere di bere devo mangiare del solido oggi ho deciso di fare il player unknown per un motivo molto specifico non perché mi ha rotto le palle cos'è l'eula accettiamo non perché mi ha rotto le palle dragon quest anzi mi sta piacendo parecchio ma perché ho scollegato switch per collegare la play 4 ho collegato la play 4 perché oggi è il day 1 di god of 4 ora vi domanderete tutti ma perché questa testa di cazzo non sta giocando a god of 4 la mattina del day 1 di god of 4 l'event mode dai proviamola scusa l'audio ah l'audio c'è solo quando gli pare a lui va bene devo fare un team posso non averlo boh proviamo non so l'hai visto prima non so neanche cosa sia comunque stavo dicendo che stavo dicendo mi ricordo ah god of war perché perché so stronzo certo direte eh non gli hanno dato la chiave ed è spilorcio no mi arriva il gioco mi arriva in formato fisico mi arriva in formato fisico il gioco perché perché Sony che cazzo Sony ma che cazzo cosa vuol dire formato fisico al day 1 che se mi arriva tardi poi neanche riesco a farlo non so se ho sentito il campanello o meno grazie al percorso siamo già a 5 le si vuole sempre di più le si vuole bene sempre di più grazie mille intanto io vi faccio vedere il formato guarda lo mandano così Shadow of the Colossus poi me lo sono comprato perché non arrivava più però questo qui è il formato che ti mandano ma ti pare il cd tarocco dei cd di magrebini quelli lì che te lo vendevano a sopra i teloni in centro in zona pedonale cioè non lo so ma dammi la chiave dammi la chiave mi dai la chiave e niente mi arrangio guarda che abbassa un po' il volume ma certo che va bene la versione stampa però cazzo guio ma mi diano la chiave del gioco lo scarico subito io invece sto aspettando un corriere che mi porti un cd perchè ma chi se ne frega cioè o mi mandi una versione fisica ad esempio una collector qualcosa che faccio vedere in live fai bella figura tu faccio bella figura io facciamo bella figura tutti cos'è questo? ah un razzo è per l'air drop questo no? ok gialluca mi ha detto che non fa danno contro gli altri giocatori quindi non l'ho usato mi ha detto anche che ci mette un botto ad arrivare l'air drop quindi vabbè tanti auguri a me trovassi un'arma almeno ooooh ooooh e la madonna cazzo addirittura che sboro merda sto ricaricando aspetta e niente vabbè vabbè è stato divertente buttate una cura ho preso l'idolo ma che palle questi viventi da 8 non aspettato non aspettato eh vabbè Joxy però l'avevo ucciso dai è venuto Natur non ho capito la domanda Dabo che intendi per la mappa che non è giusta ah si intendevi che prima la mappa era totale o questa cos'è questa cosa ma mi dice già l'aereo dove aerea carino carino bello Ayrton così guarda ma non c'è la modalità war c'è la modalità che ho appena fatto e sono appena morto quindi anche fortnite lo fa quel lavoro lì non è che si restringe più veloce non lo so me l'hanno cioè mi avevano detto che velocizzavano il gas però non non so da un momento lo dice sempre ho capito su fortnite voi che potete giocare sto andando a fare un esame ho capito sto lavorando comunque è letteralmente il mio lavoro questo tanti auguri comunque fortnite è stato orvinato dalla fanbase insomma non è granché fortnite secondo me poi vabbè sono gusti ah ci ridanno lo server che tra l'altro altra cosa speciale di fortnite porca vacca il server te lo danno ma quando vogliono loro vabbè io pensavo di poterlo fare quando mi pareva con logo invidia che appunto me l'ha fatto avere invece no non funziona così forse settimana prossima ci danno un altro slot per poter giocare assieme va bene spero di poterci giocare spesso perché appunto a voi piace un sacco se è di sotto è il caso di uccidersi perché non può avere l'audio così fatto male questo gioco però era uno che correva sull'erba a piedi nudi quello lì l'ho sentito l'audio mamma mia si fa cagare sto gioco fortnite è inflazionato quelli lì sono sempre gusti come ho detto sono gusti e il fatto che sia free to play il fatto che gente abbia giocato sempre solo a fortnite non aiuta perché dire che è il migliore senza aver giocato altro è un po' da stupidi poi i gusti sono gusti poco da dire a riguardo ma dire che è il migliore in assoluto senza aver provato scusami c'è la guerra di fuori 2x ah bene molto bene adesso lo fa chiunque ad alcuni può aver stufato assolutamente certo ma infatti io fortnite come ho sempre detto l'ho fatto più per voi che per me stesso perché a me sinceramente fa veramente schifo lo trovo molto più mediato di player unknown e questo è un plus perché infatti puoi farti più partite però sparare non mi piace per nulla ciò non rende player unknown un bel gioco chiaramente stiamo giocando comunque un gioco di merda in questo momento poco da dire c'ha dei difetti abbastanza gravi e non notarli da stronzi no eccolo qui ah in italiano si chiama strozzatore lo zaino ce l'ho lo zaino che vuoi ok buona buona insomma non ho un cazzo ma buona ah c'era qualcuno qua un m16 frega niente no che cazzo se frega niente nella partita di prima che c'avevo qualcosa fa culo frega niente quindi uno è arrivato qui ha guardato in giro ha lasciato giù l'm16 no mmm c'erano altri colpi per la pistola in giro non li ho visti non mi pare callisto le si vuole bene il signor gatto grazie mille comunque so giocare adesso non è che mi dovete dare i consigli delle palle c'ho 200 ore su sto gioco di merda saprò saprò qualcosa meno il beneficio del dubbio lasciatemelo cazzo qui c'è uno ad esempio eh ma il tempo non è dalla mia quindi me ne devo andare eh prima non ho migliorato la grafica in realtà snì ha migliorato alcune cose altre le ha peggiorate al contrario di fortnite che invece ha fatto un lavoro della madonna fortnite ha fatto un lavoro qualitativo straordinario per quanto riguarda la grafica poi chiaro uno c'è una grafica realistica l'altro c'è la cartoon per carità sono due cose completamente differenti però devo dire quando bisogna fare i complimenti li si fanno insomma mi domando se uscirà un terzo battle royale che soppianterà i due attuali knight io ti ricordo che le battle royale sono scoppiate con H1Z1 ci fanno i tornei di H1Z1 ci sono in paglio dei soldi al twitchcon c'era un'arena di H1Z1 gigante franci grazie che gentilezza manca 1Z1 del 2018 e per dire non è che ne manca un terzo per soppiantare gli attuali è che gli attuali hanno già soppiantato quello che c'era prima e adesso vedrai che ne arriveranno di nuove e così via beh va bene mi piacciono le battle royale mi piacciono assai Lozar buongiorno gattone saluti dalla Spagna minore di 3 minore di 3 grazie mille ho una macchina ah si mi ricordo fortnite non ha nemmeno un anno beh parli della battle royale altra cosa che molti dimentichano è che fortnite non è fortnite voi state giocando alla battaglia reale di fortnite o una fortnite come sgommata bello però è lutato o no non riesco a vedere la porta sembra aperta si me ne vado ciao ho sentito un rumore strano ma la macchina senti che far dei rumori che fastidio ah buon Nathan buon night non lo so fortnite non batterò non doveva uscire gratuitamente dopo un po' si non è uscito boh ero rimasto che era uscito adesso non mi ricordo che comunque chi se ne frega eravamo ai pattissimi per quel fortnite lì ma come mai hanno fatto diventare le macchine liquide che non si guida più boh vabbè comunque è lutato puttane vabbè guardo qui non guardano mai qui lo fanno anche bene direi vabbè silenzatore già hanno aumentato anche lo spon delle macchine c'è un'altra lì dove l'ho preso questa ce n'era un'altra poi abbiamo trovato un buggy la pattina guarda là che roba guarda è liquido non ha più le ruote para qua ma lei c'è una barca no ma che schifezza perché l'hanno fatto ah ok nice guarda te va bene è diventato inguidabile delle mozzarelle al posto delle meritatissima come morte devo dire credo di averlo visto forse era davanti a me a sinistra se non era lì allora buh si era lì ah no se ne ha messo no io ho visto il buggy ok non ti affermo che fastidio lo senti come ho sgasato ok senza neanche un minimo di miracolo zoom pure player fanno questi balletti eh lo so lo so che non stanno mai fermi ma con red dot ci sta solo che un minimo di zoom me lo sarei aspettato l'elmetto l'elmetto livello 1 non mi ricordo cosa avevo non mi ricordo e non sto benissimo e non sto benissimo gattito non sto benissimo non è anche male e se non ce l'avevo mai fatta quindi si può fare no no maxetto allora google home io l'ho preso per una cosa molto specifica ovvero chiedergli la mia giornata in cui mi dice il meteo e poi mi dà le ultime notizie della giornata non lo chiedo neanche tutte le mattine se non hai un telefono android comunque è molto limitativa la cosa infatti io sono molto limitato è che quello dell'apple non lo fanno uscire questi stronzi quindi mi sono preso mi sono accontentato se hai un telefono android sicuramente ne ne guadagni molto di più è che io vado pazzo per queste cose qui appena c'è qualcosa di tecnologico particolare sono impazzisco e lo voglio avere lo voglio provare sono fatto così non fare come me ma si dai per una volta possiamo anche provare brutto di home pod è che è enorme si è vero hai ragione no ma guarda guido io ho la versione grande sul comodino non ho il piccolo io ho il grande ed è comunque piccolo è ottimo anche come audio è che non so se ok google buongiorno ok google alza molto il volume ok google volume al massimo capital news capital news oggi alle 9 e 4 minuti del mattino sono le 9 radio capital una buona giornata da sigla mobile a lei che paura è terribile è terribile questa notizia ok google stop politica non ci ho sbatto sono veramente sono veramente caccato politica finalmente dopo mesi faccio colazione ma bastardo qualificantissimo gatto dai capelli sbarazzini sinceramente pensavo fosse vinto almeno podio eh minchia ok google com'è il meteo adesso a Padova ci sono 23 gradi e sole oggi ci sarà il sole con una massima di 27 e una minima di 13 vedi col volume al massimo è così e si sente poi urla fortissimo tra l'altro stanotte stavo pensando una cosa io avevo il volume al minimo e comunque parlava forte perché comunque tu sei in dormiveglia e la voce in realtà il volume della voce è basso però comunque il tono il tono è normale il tono è normale e allora mi sono mi sono chiesto visto che google google home qui non è una voce almeno non credo sia una voce come siri campionata credo che sia proprio uno che come quello del treno che ha detto tante tante volte frasi credo sia così google a differenza di siri quindi non è una voce campionata che fa poi non lo so e non ne sono sicuro sicuramente è più umano di siri google la mia domanda è visto che tanto li hanno fatto doppiare hai campionato? ah buono buonissimo vabbè perché non fanno fare al doppiatore la voce un po' bassa così così dice buonasera tu gli dai io da un certo orario ad un altro ad esempio dalle 10 dalle 9 di sera mi pare alle 9 del mattino lui tiene il volume basso che così non urla come ha appena fatto sarebbe bello sarebbe bello avere la voce sottovoce no perché guido ok google giochiamo giochiamo si trova in via Bonora 16 a campo San Piero a 22 km da qui è stupido poverino che succede qua volevo giocare per davvero giochiamo adesso sapete che a campo San Piero c'è giochiamo sarà un sexy show niente come gira male 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 che succede player non come mai scatti tantissimo eh perché scatti come la merda allora oh oddio mio ma che c'è la connessione data merda no caso così perché gli va ci sta uno ha le sue preferenze no guarda qua mamma mia ok qua c'è ancora lo so esatto giusto ma le partite prima andava bene ma perché una partita a caso mi gira sempre male forse si è ripreso un po' mad dog grazie mille entra quando stamattina pensavo alla colazione pensavo ad un vecchissimo video di greta menchi che mi aveva fatto venire la bile sì lo so direttamente che ultimamente c'è i suoi cazzi e tutte tutte quante le questioni non voglio parlare di quello anche perché non me ne frega niente credo che non dovrebbe fregare niente a nessuno se non a lei e i diretti interessati magari però niente ormai bisogna dire i cazzi propri ovunque e vabbè la questione non era quella prima ancora che ci fosse questa crisi ho fatto un video che era palesemente un placement dove diceva che uno sconosciuto anche senza sapere che lei stava male perché a quanto pare lei stava male quel giorno le ha portato a casa dei biscotti e una coca cola io sono dispiaciuto per la coca cola che è un brand che amo quando fa queste cazzate guarda che fastidio però niente ci stavo pensando perché anche io non ho i fan fake come quelli che vengono pagati dalla coca cola che mi vengono casualmente sotto casa a portare un bigliettino e una pronta colazione stavo pensando questa cosa mi dispiace non mi dispiacerebbe chi è eccolo visto però scatto a merda quindi vedrai che mi uccide subito ah ma perché 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 questo è lag eh appunto bravo Matteo aspetta che chiudo va là e lo riapro coca cola famosissima abbiamo andato a vedere no ma lei era un po' giù non stava male era un po' triste e lei ha detto eh ma come facevi a sapere che stavo bene ha citofonato ho aperto la porta e ho trovato questo pacchetto con una coca cola e dei biscotti oh grazie come facevi a sapere un bigliettino e chiunque tu sia ti ringrazio ma va a cagare quello si chiama stalk è certo è per questo che nessuno sanno di mente ci farebbe un video tutto contento per questo ho capito che era un placement Gabriel ci ho visto lungo però niente non mi sarebbe dispiaciuto stamattina due fette biscottate è normale che io non so questa gente su youtube vabbè anche quelli sono gusti eh però davanti alle puttanate sono puttanate eh sì Leviathan quando scatta di colpo di solito è il server che sta morendo e e ti dice no dai stacca beh guarda adesso adesso è al posto adesso è al posto a me basterebbe il corriere che è il mio world of war cross tank siamo sulla stessa barca ok google dov'è il corriere? ci sono almeno dieci posti nel raggio di cinque chilometri la primo corriere VRT in via in GTR a Padova e a quattro chilometri da qui grazie Tuso è vero Maxetto è vero no no allora si allora si allora si ma è capitato di trovare un youtuber bambino meno di dieci anni che recensiva giochi leggendo un plot scritto probabilmente dal padre ecco i bambini tuber bimbi tuber li chiamo così sono un nuovo fenomeno che è scoppiato nell'ultimo anno e mezzo ce ne sono un sacco eh c'è Leonardo D che seguivo poi è diventato una merda e non lo segue più nessuno è vero poverino mi dispiace Leonardo D c'era Marghe e Giulia Kawai che anche loro sono calate un bel po' sia come qualità che come visual mi pare poi non me le ricordo gli altri però porca vacca porca vacca ho arrivato una notifica adesso di telegram di venti minuti fa niente vediamo se riesco a scendere qui ci sono questi bambini chiaramente tra virgolette sfruttati perché alla fine si divertono non è che i genitori gli puntano la pistola alla testa e gli dicono fai il video se no ti ammazzo sicuramente i genitori si divertono a fare i video con i figli ed è una cosa per me sacrosanta se il genitore col figlio si diverte a fare il video che poi pubblica su youtube e fa ridere altri bambini che male vuoi che faccia poi dopo quando scopri che il tuo figlio è su youtube ci sono i pedofili che si fanno le pippone guardandoti il figlio su youtube ecco magari quella cosa lì ti dà un po' fastidio fare il video in famiglia è sempre una cosa carina e divertente starf starf cares starf cares starf cares grazie starf cares comunque si vede poi quando la cosa inizia a diventare un po' forzata e ridicola appunto nel caso di marghe e giulia è diventato un po' trashy trashy ma tanto trashy prima erano due bambine che si divertivano adesso si vede che è un po' così era il campanello vado a controllare aspettate non si sa mai perché me lo fanno riparando non era il campanello tutto a posto e dai a posto arrivo eccomi qui poi ma perché i bambini alla fine hanno degli stimoli diversi dagli adulti e prima o poi si rompono le palle molto facilmente e puntano a fare roba nuova se tu li fai fare sempre i video dove fai questo fai quello fai quello si non poni i coglioni è chiaro è una cosa già vista più e più volte quanti colpi no non neanche lo zaino no il problema qual è? il problema è che iniziano ad arrivare dei bei soldoni ai genitori perché inizia chiaramente per gioco come sempre perché è un gioco alla fine non lo fanno con qualche obiettivo strano i genitori lo fanno per gioco lo fanno per divertirsi poi inizia ad arrivare dei soldi perché? perché il pubblico che segue i bambini su youtube sono bambini i bambini su youtube sono un'infinità sono talmente tanti i bambini su youtube che youtube stesso ti dice non dire le parolacce nei video perché così lo possono vedere anche i bambini e il tuo video viene spammato molto di più da youtube infatti no prove quelle sono scelte aziendali e visto che ci sono così tanti bambini così tanto mercato per i bambini il guadagno è alto il guadagno è alto il genitore che inizia a vedere prima 100 poi 200 poi 400 1000 2000 euro che gli arrivano tramite questa cosa iniziata chiaramente per gioco dico cazzo cazzo vuoi mai che possiamo fare due soldi il giobbotto gatto ce l'ho addosso fatto ce l'ho ce l'ho addosso consigli delle palle comunque è normale che il genitore dice cazzo potrei magari fare un po' di cresta potrei fare un po' di però non dopo un po' la cosa diventa forzata i bambini si rompono con le balle diventa tutto un po' cringi no e allora va a finire che i canali iniziano un po' a perdere di mordente volete vedere un esempio di questo inizio e secondo me a parere mio parere personalissimo declino di uno youtuber nato e visto crescere su youtube da me visto letteralmente crescere è newmano adams non so se lo conoscete cazzo newmano adams è abbastanza famoso non lo sono inventato io ieri newmano adams è questo ragazzino che ha fatto i video anche con i the show non so se avete visto ha fatto dei video con i the show ha fatto i video con la morricconi la morichelli la sbirulina la poputa non mi ricordo come si chiama e lui ha avuto un momento molto molto alto nella sua carriera da youtuber e poi niente c'è stato un declino incredibile e adesso non so non credo faccia più no 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 non è no 1000 accendini è un'altra persona 1000 accendini non c'entra niente quelli che hanno fatto peking express esatto i the show quelli lì che hanno fatto anche lo scandalo perché hanno aperto il patreon per fare i loro video tutte quelle cose vabbè se non lo conoscete ame vabbè siete fortunati di umano adams che cioè non è che un youtuber delle balle è un ragazzino non non era uno degli youtuber che effettivamente creavano problemi un ragazzino chi lo seguiva lo seguiva chi non lo seguiva non lo seguiva quello ragazzino non so quanti anni avrà adesso andrà al liceo credo non lo so o meglio liceo comunque io l'ho visto letteralmente crescere perché il suo primo video che ho visto insieme agli altri era di lui piccolissimo ma piccolo cioè molto piccolo sia stato all'elementari massimo dai pro player pro player guarda lì che sta guidando della salsedine ma è sceso ma che pro lui è il vero pro aspetta cosa è successo qua i pezzi che volano che paura ok ok perché provate a scendere così bravissimo arrivo eh tempo di luttare un po' di robe e ci sono e dicevo Newman Adams io l'ho visto veramente da piccolo piccolo con il padre appunto che facevano questo video del cazzo e lui si chiama Newman Adams per un motivo veramente imbecille che però è è genuino ed è bello che sia così e mi è piaciuto molto lui si chiama Newman aspetta forse è meglio fare così lui si chiama Newman Adams perché da piccolo faceva la mano della famiglia Adams cioè nel primo video lui ti fa vedere che fa così con la mano gli inquadrano la mano e lui fa così fa il balletto di di Manu Adams e lui si chiama Newman Adams per quello cioè e lui è cresciuto così è talmente tanto genuina quella cosa carinissima e poi purtroppo è cresciuto insomma è diventato uno di quelli che fanno video un po' delle balle i pranks i fans i fans peccato peccato e questa è la storia di Newman Adams che da come abbiamo sempre visto non ha mai avuto problemi di soldi in famiglia da quello che si traspirava dai video e poi per carità ognuno c'è i suoi cazzi giudicare la vita di un'altra persona da dei video su youtube è sicuramente sbagliato quindi sono solo ipotesi che ti puoi fare perché uno può farti vedere che c'è un sacco di roba davanti alla telecamera poi o non hai niente oppure in bancarotta per altri cazzi ripeto ognuno c'è i suoi cazzi quello che traspareva dai video è che non fosse senza soldi di famiglia quindi quello sembrava portato avanti più per divertimento suo che per altro però questo scende mi ammazza bestia che culo che c'ha una mira del cazzo mi sembra tutto più molle questo player non hanno fatto dei cambiamenti che paura e dove cazzo era non lo so c'ho paura vado via cazzo mi ha beccato in testa sbirulino aspetta vado a mettermi nel metto di qua e dai ok 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 no ma parolò della mira mi pare tutto più molle non so come definire un po' come la guida qui è appena partita una tarantella e niente è andato dentro la roccia il furbo giustamente per carità fammi luttare quello lì che ho ucciso prima ci ho avessi un 4x Arrivo Che zigula Questa è la mia pancia Non so se si è sentita Lo vedo in stallo Cazzo Grazie schingo Sono arrivato un po' tardi Però ti bizzo tutto Grazie Oh che bella posizione Ma che fa di zigulare Devo aspettare qui Fì che non si chiude il gas L'ho preso però Pure là il drop Che cuccagna Eh no lo vedo più Vado via Mi riprendo il vehicles E mi lavo tal pales Che paura Ora che c'è una mira Di palle E che cazzo Pensavo fosse meglio Della mia Che imbarazzo Fuff E quindi niente Mi racconto la storia Degli youtuber bimbi Che iniziano Quasi tutti per gioco E poi finiscono A fare anche Di placement Abbastanza importanti Infatti io non so Se lo è pensato Ma Che pazzo Questi youtuber ragazzini Fanno i placement Di E allora niente Vado via Vado via Ma cosa Cosa mi spara Perdonami Che cos'era Quello suono lì E il deficiente Che sono Porca troia E niente Che cacchio Ma ma non lo so Cioè tutti i veicoli Li hanno fatti Veramente strani Adesso Non Non volevo uscire Comunque Volevo frenare E Nascondermi Ho premuto per errore La Però Non so Colpa di H1Z1 Che non c'era danno Quando uscivi di cosa La madonna Non è che avessi giocato H1Z1 Stamattina Lightfra Ciao Gattaus Ti voglio un mondo Di bene Spero tu capisca la cheat No Non l'ho capito Non l'ho capito Sì Sigu Però è per 8 persone L'ultima vittoria su PUBG Eh figa da un po' Che non vinco Ho vinto da invidia Ho vinto Ma ogni volta che gioco Con qualcun altro Faccio un sacco di kill E vinco sempre Eh da solo Non so perché Ma vabbè Lo so perché In realtà Perché quando sono da solo Tendo di più a leggere la chat Tendo di più a distrarmi È normale Ci sta Mamma mia pastella Che male Però il mio problema È un altro Il mio problema È che non c'ho niente da mangiare Petizione per far sì Che il gatto giochi a The Sims Guarda se me lo seguiste Volentieri Perché non lo seguite Quindi Cioè Io vorrei veramente Giocare a The Sims Mi divertivo un sacco Solo che The Sims Non Non se lo guarda Nessuno Non pochi No no Se lo guarda nessuno The Sims Ve lo assicuro Anche perché è bello The Sims Mi piace Sì sì Live infatti Infatti Quel cretino E' bravo E' bravo deficiente Bravo 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 Fai le live che non frega niente Proprio scemo Proprio scemo No niente L'ho quasi Completamente abbandonato Morelli di merda C'è Starbound Porca vacca Potrebbe fare The Sims Anzi l'ha fatto anche The Sims In live Era andato bene Perché sono belle Quelle cose lì Da seguire Di note Sono fatte apposta Era bellissimo Era bellissimo Però niente Scemo More Scemo Me ne mettevo sempre Di sottofondo Le sue live E niente Ha fatto Coso Ha fatto Si chiama Lì Quello lì Con Coso Con la mascherina La E dai Quella cosa giapponesata Lì che non mi viene Sparano Voglio sparare anch'io Nier Bravo Cross attack Ho fatto Nier Automata Poi Non contento Ha fatto Coso Come si chiama Quello di Snake Non mi vengono i nomi Oggi Ma voglio sparare Eccolo Eccolo Che paurissimo Non capisco Sarà davanti o dentro Ho preso paura E basta Perché sono un cagassotto Di merda Vaffanculo Sono veramente Una merda Comunque Ha fatto Nier Ha fatto Metal Gear Di film Ma che palle Quei giochi lì Non sono da rilassarsi Di notte Porca miseria Moro Torna a fare Starbound Fai The Sims Cazzo Marco invece Mark Dei termosifoni Fa l'esatto contrario Perché è ancora più pirla Anziché fare un gioco figo Appunto Lui adesso ha deciso Che si prende dei pomeriggi Si prende dei pomeriggi Per lui E ha fatto bene Si prende della sua live Perché ormai sappiamo Che il canale di termosifoni È di Mark e Moro Quindi anche Mark Ha detto Perché solo Moro Può fare le sue live di notte Faccio anch'io Le live di pomeriggio Cosa fa di pomeriggio? I Pokémon Che è un gioco Da rilassamento notturno Ma Marco Santo cielo Tu c'hai anche la fibra Puoi streamare le cose incredibili E dai Niente Non si capisce Fanno le cose al contrario Hanno sbagliato Si sono invertiti E niente Mi sono molto dispiaciuto Per questa cosa Saluto E termosifoni Questi cretini Guarda Basta scambiare i giochi Tra di loro E le live Mamma mia E ho peccato Perché appunto Le live noturne di Moro Le seguivo veramente Felici Così Poi dormivo Perché le telefacelle Quattro di notte Però me le assaporavo Però era bello Da seguire Era bello Era bello E niente Deve fare i giochi Che fichi Ti piacciono a lui Ma non devi fare i giochi Che ti piacciono Moro Devi fare starbound Eh E che cos'è Vander Salve signor gatto Visto che porta fortuna Negli esami Spero funzioni anche Per le operazioni Oggi mi tolgono i denti Del giudizio E mi serve fortuna Ma va là Ma non ti preoccupare È un'operazione ormai Di routine È sdoganata Come il WSS Grazie mille E tanti auguri Comunque Gianni Pignotto Mi si è spento il monitor Niente Non ho fatto in tempo Che paura E sono quattro È sempre un piacere Seguire la Sir Gataus Grazie mille Piacere mio Sono sceso in città Per andare a fare Bordello Ma Vai con la pistola Che odio Questa cosa Pocca vacca Guarda Quando ci mette Sette ore A raccogliere Una puttanata Guarda Padella e pistola Vai Mi era separato Di vedere uno Mio dio Io mi devo far curare Per davvero Inizio ad avere Le allucinazioni Cazzo così È troppo Comunque Grazie a Luca Cento bit Dicevo Grazie a Luca Gli ultimi Cento bit Dell'offerta Continuano a far suonare I campanelli Augurandone una buona giornata Signor Gatto Grazie mille Grazie dei tuoi bit Ricordo a tutti gli altri Che sono in offerta I bit Se volete donarmi i bit Grazie a Deep Rob Grazie Sono pazzo Grazie a Mugandra Grazie a Mugandra E vaffanculo Ho fatto il giro Vabbè Vabbè Io adesso la voglio vedere Grazie a Fabio E sono tre Evviva Io voglio vedere Perché mi ha veramente Shottato L'avevo acchiappato L'avevo acchiappato però No forse non li ho sparato io qui Oh sì Potrebbe essere Non lo so Grazie a Sam Per carità La killcam è quel che è Con la mira Ma io Un controllino Glielo farei fare Sam mi ha veramente Troppo shottato Ecco questo qua Per carità Per carità Poi Un controllino Che glielo faccia Bene Bene Sono le nove Le die Le undici Oddio mio Perché sono pazzo oggi No no ci può stare Davo Però Minchia Cioè Un po' tanto Comunque Vediamo i termos Intanto ringrazio Smile Kids Grazie mille Io vi ricordo Che questa sera Day 1 The God of War Dalle 21 Non so fino a che ora Intanto ce lo godiamo Per benino Il Day 1 The God of War E Niente Scriviamo ai termosifoni Moro torna a giocare A Starbound Grazie a Damleto All'ultimissimo Proprio Mi raccomando Tutti a scrivere Moro torna a giocare A Starbound O a streammare Moro torna a streammare Starbound Buona giornata Ragazzi Grazie a Damleto